Ci sarà un'ordinanza che è il seguito di quel patto di convivenza civile. Noi vogliamo dimostrare che possono convivere il diritto alla quiete dei residenti con il diritto alla movida dei giovani e dei meno giovani. Questa è una città che è pronta a tutte le sfide. Chi commette invece dei comportamenti gravi scatteranno determinate sanzioni che vanno a vantaggio di tutte le persone che invece lavorano con noi per coniugare questi diritti. Quali saranno le sanzioni? Possiamo immaginarle? Sono sanzioni che riguardano chiaramente comportamenti gravi con riferimento alla vendita di determinati prodotti dopo certi orari e anche il caso in cui ci siano ulteriori gravi violazioni che saranno inserite nell'ordinanza. L'ordinanza avrà una parte motiva dove sarà descritto il comportamento virtuoso per far convivere questi diritti. E poi una parte sanzionatoria? Sanzionatoria nei confronti invece di chi commette dei fatti che vanno a turbare questa contemperanza di questi diritti che ho detto prima. L'ordinanza sarà emessa entro il 7, ci tengo a dire che non c'è una svolta autoritaria né una svolta di militarizzazione e in più abbiamo chiesto e c'è un grande sostegno da parte di tutti un maggior controllo del territorio perché poi l'ordinanza arriva fino a un certo punto ma c'è bisogno del controllo delle forze di polizia perché poi si tratta anche di prevenire e reprimere comportamenti gravi che attenzione non vanno solo a danno dei residenti ma anche a danno della stragrande maggioranza di quelli che fanno movita che sono persone per bene. Grazie.